buongiorno a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale lo so manco tipo da un mese ma non ci posso fare niente la mia pancia e i miei impegni da quasi mamma mi portano via dalla telecamera e quindi non sto registrando molto in questo periodo anche perché sono molto 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 stanca allora oggi finiamo la trentasettesima settimana e domani lunedì entriamo nella trentottesima settimana perché non lo sapesse si sono incinta di un bel bambino e sono a termine e praticamente sono molto stanca ho già detto bene e anche molto saluta ma non vedo l'ora che nasca il bambino comunque mi avete chiesto su instagram alcuni di voi la valigia del parto per il parto se l'ho già fatta ovviamente sì già da un po di tempo è pronta però non l'ho ancora chiusa penso che la chiuderò questa settimana perché mancava qualcosina e quello che ci tengo a dire è che secondo la prima gravidanza non voglio dare consigli a nessuno perché ovviamente non so neanche io se è giusta questa valigia visto che l'ho fatta in un mix tra consigli dell'ospedale consigli di amici e di amiche anzi e consigli presi sui vari video di youtube quindi non vuole essere un video assolutamente di essenziali per il parto magari poi li farò in un secondo momento dopo che avrò parto video ed è soprattutto un video anche di condivisione e di braccia aperte verso i consigli delle mamme che sono sempre ben accetti perché magari voi che vedete questo video che avete già esperienza più di me potete dirmi a porta quelle fatto bene manca quell'altro magari perché mi è sfuggito quindi aspetto i vostri consigli giù nei commenti mi raccomando ne approfitto anche per dirvi di iscrivervi al canale di mettere mi piace a questo video di attivare la campanella perché pubblicando pochi video non sempre vengono spinti molto da youtube monnellino allora sposto la valigia davanti a me così la apro insieme a voi e vi faccio vedere quello che ho messo allora eccoci qui con la valigia alla mia destra tra l'altro dietro di me vedete un piccolo spoiler dell'angolo cameretta di francesco che vi farò vedere se volete in un altro video e partirei con le cose succulenti e cioè le cose di piccolo francesco mi sta venendo l'ansia allora iniziamo con la cosa che bella è un saluto la sacchetta guardate che carina allora questa è la sacchetta che abbiamo fatto io e mia suocera per la prima volta ci siamo cimentate per il nostro bimbo barra nipotino a fare questa bellissima sacchetta nella quale appunto io ho già messo il primo cambio che è quello che darò spero in maniera lucida alle ostetiche perché vuol dire che qualche cosa per nascere ho preso queste bustine che sicuramente mi chiederete dove le ho prese le ho prese da amazon vi lascio il link giù nell'info box nel quale nel nelle quale bustine appunto ho scritto il nome sopra vabbè vi ricopro perché comunque c'è anche il cognome quindi ve lo copro ed sono queste bustine carinissime sono fatte con un orsacchiotto due orsacchiotti anzi uno che ha in mani pop corn e l'altro che lo guardo e verdi e mi ricordavano molto Winnie the Pooh che io adoro ci sono i cuoricini sopra e il sole e qui c'è la targhetta dico per il cognome ok c'è la targhetta appunto per scrivere quello che dovevo scrivere io ho scritto il cognome Francesco primo cambio e qui c'è il primo cambio che appunto metterà appena nasce ovviamente io ho fatto i cambi per Francesco in base a quello che richiedeva l'ospedale ci sono alcuni ospedali che richiedono determinate cose e altri che ne chiedono degli altri quindi l'ospedale dove partorirò a Lecce praticamente richiede per ogni bambino a 4 a 5 cambi composti da una tutina di ceniglia perché ovviamente siamo in periodo invernale un bodino intimo la magliettina della fortuna appena nasce e le ghettine sempre di lana anche di lana di cotone di caldo cotone anche perché io non lo so questo bambino nell'ospedale fa un caldo terribile bello mio non so come farà specialmente se prende da me a mettersi tutte queste cose comunque non vi mostro il primo cambio perché magari poi farò delle fotine per me o magari le metterò su instagram senza la faccia ovviamente però sappiate insomma che il primo cambio l'ho fatto completamente azzurro e ovviamente le tutine sono lì quindi ho magari dimosso il secondo cambio ho preparato anche un cambio più piccolino perché non sapendo di quanto nasce credo prendere le tutine sotto consiglio sempre di amiche e le tutine più grandi perché è meglio mettere le tutine più grandi che magari li vanno leggermente più grandi che mettere le tutine che non li vanno proprio l'unico cambio che ho preso più piccolino glielo farò mettere il secondo giorno praticamente che amiche già cresce di un centimetro al giorno quindi ho portato un cambio più piccolino dovrebbe servire eventualmente una misura più piccolina e questo ve lo mostro perché non è quello di diciamo della nascita che buon odore allora ci siamo le ghettine le ghettine verdi perché io poi tutto coordinato ovviamente il bodino a maniche lunghe di Winnie the Pooh che carino così e poi la tutina verde in coordinato con le ghettine con questi praticamente orsacchiotti molto carini poi altri cambi quindi questo è il terzo cambio e poi c'è il cambio per l'uscita vi faccio solo sbirciare un pochino guardate il cambio per l'uscita bellissimo azzurro ovviamente e guardate cosa ci metterò anche il cappellino con le scarpine non vedo l'ora l'ospedale cambia il bambino praticamente il pannolino glielo cambia insomma lo cambiano loro però eventualmente dovesse servire nelle ore del giorno in cui sta con me di cambiarlo perché appunto è con me non è che posso chiamare l'infermiera sopportano dei pannolini che sono proprio la taglia piccolina la zero e ne sto portando uno, due, tre, quattro, cinque pannolini ovviamente poi siccome io sono a dieci minuti da qui la mattina quando avrà mio marito se servisse gli altri pannolini li faccio portare tanto alla fine almeno un'ora mio marito al giorno può venire la mattina o anche qualcun altro non ho capito ancora se può venire qualcun altro oltre il mio marito quindi sto portando cinque pannolini almeno per il primo giorno e poi le salviettine e queste le ho trovate in offerta all'acqua e sabone non mi ricordo quanto le ho pagate c'erano tipo forse quattro pacchi sono 60 salviettine ogni pacco e le sto portando appunto per ogni evenienza e in più sempre per quanto riguarda Francesco sto portando l'accappatoio che forse non servirà però io sto portando lo stesso non lo so ho visto negli altri video delle mamme che lo portano lo sto portando ed è l'accappatoio di Topolino questa è una delle prime cose che ho comprato anzi mia sorella me l'ha regalato ed è quello classico a quadrato con il cappellino qui che si mette il cappuccio quindi questa è la parte di Francesco passiamo invece alla mia parte che praticamente è completa al 99% perché devo andare a comprare un po' di mutandine da utilizzare perché le voglio utilizzare solo per l'ospedale allora diciamo che questa è la parte un pochino noiosa perché si hanno le classiche vestaglie da nonna dico io o da ospedale allora sulle vestaglie c'è tutta quanta una storia particolare perché praticamente io la prima vestaglie che ho comprato è una vestaglia nera che ho comprato da Bonprix che vi lascio sempre il link giù nell'info box che è nera mia madre e mia suocera mi volevano ammazzare ovviamente non ve le caccio perché stanno tutte quante belle pulite e imbustate comunque è la classica vestaglia ragazze da gravidanza da parto vi metto comunque la foto da qualche parte ed era nera io ero felicissima mia madre e mia suocera mi hanno tipo minacciato dicendomi che il nero no ma sta scherzando si stava attorrendo anche no nero e anche il un commerciante da quale poi sono andata dopo a prendere altre vestaglie mi ha detto come tuo figlio vuole nascere e già ti vede nero cosa deve pensare che è nato in un mondo che fa schifo che già più o meno là stiamo quindi anche lui mi diceva no la vestaglia nera non va bene per il parto c'era anche un'altra versione grigia io mi ho comprato quell'altra versione grigia mi sono detto no adesso per non dare poi dispiacea di pari anche perché non mi interessava sinceramente andare tipo a fare di sacco all'evento ho preso le classiche vestaglie oh mio dio che si usano quando si partorisce e mai più perché che cacchio se le mette queste vestaglie comunque ho preso due altre vestaglie che insieme a quella che io metterò comunque non la metterò magari al parto la metterò il giorno dopo comunque la vizzerò e sono così attualmente rosa perché io sono femminuccia con il con i cuoricini ed è una classica vestaglia ragazze lunga fino alle ginocchia sbottonata fino a un certo punto per la allattare ha maniche lunghe ahimè perché con maniche corte non ce n'erano però sono di cotone quindi non dovrei avere problemi perché è molto molto caldo e un'altra vestaglia uguale cambia solo il colore perché è grigia non è questa può andare poi vestaglia perché vuoi metterci la vestaglia cioè vuoi camminare da una parte all'altra per fare tracciati visite e cose vare senza la vestaglia solo con la camicia da notte mai sia devi metterci la vestaglia perché devi essere chic anche in ospedale va bene quindi mi hanno fatto comprare anche la vestaglia prendiamo anche la vestaglia che questa vestaglia è un pochino più pesantina perché non è proprio di cotone ma è diciamo più per la stagione invernale ovviamente a di tenere ovviamente dopo la vestaglia che è l'unica cosa sexy e più carina che ho anche le scarpe ovviamente dovevano essere d'ospedale e quindi ho preso queste scartine molto carine della in blu che almeno sono comode che queste poi sfrutterò ovviamente anche dopo perché le mie pantofole sono un pochino vecchiotte e quindi le sto tenendo diciamo belle nuove per l'ospedale poi poi veniamo alle parti diciamo più intime e quindi sto portando un asciugamano grande e un asciugamano più piccolino il cosiddetto ospite una busta vabbè per le robe sporche che ovviamente ci saranno poi veniamo alle cose ancora più intime e meno interessanti che sarebbe il beauty case allora salvecine intime perché le possono sempre servire e da gente intimo che sta ancora nel bagno lo prendono al volo quando sarà il momento di andare via ho un beauty case nel beauty case con tanti tanti mini campioncini che ho preso nei vari viaggi tipo per esempio lo shampoo tipo per esempio il balsamo insomma tutte le occorrenti vari per lavarsi e questo è già completo cuffiette insomma i classici kit che gli danno negli hotel ce li ho qui pronti e quindi sono sempre utili e poi sto portando vabbè il odorante poi diciamo vediamo le cose più sexy che ci sono al mondo e cioè le coppette assorbilatte che ho preso sempre in offerta di farmacia che non so se allatterò mi auguro di sì non so quanto allatterò quindi comunque queste sono sempre buone e me le sto portando ne ho portate un bel po' fermo restando che se dovesse servire a 10 minuti mio marito da casa mi porta le cose che mi servono e poi vabbè fazzoletti salviettine varie e la cosa che non può mancare in assoluto le mascherine questo fa parte anche del corredo di questi periodi e poi qui non so ancora se le lascerò qui o se le mettono in valigia la cosa che tutti quanti voi stavate aspettando lo so lo so non vedevate l'ora di vedere questo e lo state per vedere i pannolini per me no per me Francesco e sono praticamente le mutandine assorbetti che dicono servono dopo l'imparto allora le mutandine che ho preso sono queste qua sono aperte perché appunto le ho messe là dentro perché non le ho portate tutte perché sono nella valigia non c'entravano e sono della Lines Lines Specialist Pants penso che si chiamano così e unisex morbide e conosce di zinco giorno e notte che sexy sono così ho visto sempre su i vari canali di consigli di mamme e anche dei consigli delle mie amiche che sono molto più comodi rispetto alle assorbentoni che si utilizzano dopo il parto per insomma diciamo quello che succede dopo il parto che voglio neanche saperlo e queste sono comode perché praticamente si mettono come delle mutandine ok e poi si tolgono semplicemente strappandole ho preso la Maxi come protezione e la L ho preso un pacco di L e un pacco di M perché magari all'inizio con la pancia va bene la L poi dopo magari la pancia va un po' via e va bene anche la M le ho provate per essere sicura appunto che mi vadano perché io sono un pochino diciamo non proprio magrissima e mi vanno perfette quindi sono buone nel senso che comunque mi vanno comode ecco quello era l'importante penso che si possono utilizzare anche con un patto cesareo penso di sì non lo so ovviamente poi diciamo di intimo anche le mutandine e i reggiseni che vi mostro ovviamente per varie ragioni il cambio invece per l'uscita me lo farò portare da mio marito sempre quando uscirò spero di non aver dimenticato nulla cappellini vari non ne sto portando al bambino se non per l'uscita perché appunto in ospedale penso che faccia abbastanza caldo almeno le poche volte che sono andate in questi giorni se mi arrivano al caldo quindi cappellini non ne sto portando se ho dimenticato qualcosa fatemelo sapere giù nei commenti se volete consigli da darvi sempre giù nei commenti io attendo con ansia le vostre domande